Il 2 giugno 1946, la mattina in cui si svolgeva il referendum costituzionale, quindi erano le prime elezioni libere dopo più di 20 anni, qui dove siamo occorse un incidente, dal moschetto del maresciallo dei Carabinieri partì un colpo che uccise il segretario della sezione del PC di Celleno. Ovviamente questo fatto poi ebbe delle ripercussioni, tra le altre cose Celleno fu anche il paese della provincia dove poi tra referendum, monarchia, repubblica, la repubblica prese la percentuale più alta che era circa il 75%, distanziando di qualche decimale orte. Il fatto ebbe un'ampia risonanza, dopodiché vennero anche istruiti dei processi, però il tutto ebbe come risultato, si chiede che fu un incidente questo. Qui praticamente all'epoca c'era un cinema, un cinema sala da ballo, tra l'altro anche mio nonno suonava con un'orchestrina, io ho delle foto dove suonavano e era un punto di ritrovo dove ci si ritrovava per ballare, sostanzialmente per vedere i film addirittura, da quello che ho sentito dai racconti, anche c'erano degli incontri di box a volte. Forse era box anche in piazza, diciamo, qui al chiuso. Il 2 giugno del 1946 venne appunto allestito per tenere le prime elezioni libere, quindi come seggio elettorale. Ci troviamo sotto a Palazzo della Famiglia Caprini, non a caso oggi questo largo è stato proprio intitolato, credo, fine anni 90, primi anni 2000, a Pacifico Caprini. Pacifico Caprini fu, insieme al fratello Francesco, uno dei personaggi più importanti della Resistenza. Tra le sue varie gesta si ricorda in particolar modo il minamento di Ponte Milvio nel 1849 durante la Repubblica Romana. In quello stesso periodo il fratello Francesco perse proprio la vita, morì per la difesa della Repubblica Romana. Una delle curiosità legate proprio al Pacifico Caprini, alla famiglia Caprini, è quella che quando Garibaldi venne nel 1875 in visita a Viterbo, praticamente loro fornirono il letto dove Garibaldi dormì, per cui questo letto, anche quando ero piccolo io, mi ricordo che si diceva che all'interno ci fosse presente un letto dove ha dormito in pratica Garibaldi. Ora, sinceramente, non sappiamo più se questo letto ancora sta qua, però comunque diciamo che tra le varie curiosità possiamo annoverare anche questa. Grazie a tutti. Sono Marco Taschini, vivo a Celleno e mi interesso, sono un musicista, ma mi interesso, sono anche un appassionato di storia e quindi mi interesso anche di effettuare delle ricerche storiche e delle ricostruzioni storiche. Oggi ho avuto il piacere di raccontare alcuni episodi della nostra storia locale.